Andrea Raffa Revisore Buonasera, grazie mille per essere qui. Devo dire che sono un po' spaventata perché dopo il delfino empatico, farsi 18 minuti di filosofia non è facile. Resistete alla tentazione di scappare, vi prometto che sarà interessante. Prima di venire qui stavo discutendo il talk con una mia amica e gli ho detto il titolo. Il titolo è Intelligenza artificiale e design intelligente. E mi ha detto, ma scusa, ma l'empatia che c'entra? Due giorni dopo stavamo ancora discutendo sulla rilevanza o meno dell'empatia. Vi prometto che in 18 minuti ce la dovremo fare oggi. Ma se lo faccio bene, l'empatia sarà una delle ultime parole che pronuncio in questo talk perché sarà parte della risposta a questa domanda. Che cosa significa essere umani se le macchine sono intelligenti? Una domanda un po' superficiale, semplice. Ma in realtà quello che è interessante di questa domanda che è un po' nella descrizione di questo evento di oggi è che in realtà è un po' tendenziosa perché sembra assumere che le macchine siano intelligenti e che se lo sono, sono intelligenti come gli esseri umani. In realtà il se in questa domanda ha una funzione fondamentale. Dobbiamo domandarci se davvero le macchine siano intelligenti e se lo sono, che intelligenza hanno. Quindi io inizierò questo talk parlandovi un po' di che cos'è l'intelligenza artificiale, la definiamo, capire quali sono i rischi e le opportunità che questa tecnologia ci presenta, che dobbiamo evitare o cogliere, e poi capire come questi rischi e opportunità abbiano un impatto sull'essere umani al giorno d'oggi. Quando si parla di intelligenza artificiale, le posizioni sono diversissime. Abbiamo un range ampissimo. Da una parte troviamo quelli che dicono l'intelligenza artificiale è fantastica, ci farà superare i limiti biologici, potremo vivere per sempre, potremo diventare immortali. Faremo una cosa che si chiama il mind uploading, prendere tutte le informazioni che sono nel nostro cervello e trasferirle in una macchina che sarà così potente da diventare un avatar. Noi senza il corpo. Saremo veramente potentissimi, intelligentissimi, eterni. Dall'altra parte dello spettro ci sono quelli che dicono ah no, l'intelligenza artificiale, le macchine saranno sempre più potenti, sempre più raffinate e saranno in grado di definire le regole della loro progettazione e diventeranno così potenti, così raffinate da rendere la specie umana una specie superflua. Ci stermieranno, ci imprigioneranno, ci faranno schiavi. Ecco, la singolarità o la singularity del transhumanismo. Science fiction. Niente a che fare con la ricerca, niente a che fare con la scienza. Se vi capita di sentire qualcuno che vi dice una di queste due cose, è un bel libro, una bella discussione per il pub il venerdì sera. Niente a che fare con la realtà che abbiamo davanti. L'intelligenza artificiale, questa è una definizione un po' accademica, però è l'unica cosa veramente accademica di questo talk, quindi abbiate pazienza. È una risorsa di agenti autonomi capaci di interagire e di imparare e che possono essere usati per eseguire compiti che altrimenti richiederebbero l'intelligenza umana per essere eseguiti con successo. L'abbiamo definita così in un paper che abbiamo pubblicato l'anno scorso in Science Robotics. Ci sono due cose che sono importanti in questa definizione. La prima ci dice che tipo di intelligenza hanno le macchine. Le macchine non sono intelligenti. Non hanno idee, non hanno intuizioni, non hanno empatia, non hanno consapevolezza, non hanno coscienza, non hanno intuizioni come quelle che possiamo avere noi quando stiamo facendo la cosa più semplice. Le macchine si comportano come se fossero intelligenti. Regolare la temperatura di questo teatro a seconda della temperatura esterna o di come reagiscono le persone dentro il teatro. Se lo facessi io, voi pensereste, va beh, è intelligente, ha capito che avevamo freddo, ha alzato il termostato. La macchina lo fa lo stesso, raggiunge lo stesso obiettivo, ma non è intelligente. Ha un comportamento che noi definiremmo intelligente se è un essere umano lo stesso seguente. L'altro aspetto che è importante è che l'intelligenza artificiale ci permette di avere agenti che sono autonomi e capaci di interagire e di imparare mentre interagiscono con l'ambiente. Noi nella storia dell'umanità abbiamo avuto macchine automatiche, un orologio che portiamo al polso, certi tipi di macchine, ma mai macchine autonome. Ed è questa autonomia, che non è quella degli esseri umani, che crea i problemi, i rischi, ma anche le opportunità che l'intelligenza artificiale ci presenta. Vi parlo un po' dei rischi, ma voglio in realtà parlare di più di cose positive, quindi delle opportunità. Il primo rischio ha a che fare con il profiling. L'avrete sentito, l'hanno parlato gli speakers prima di me. È quello che permette a Google di farci avere informazioni che sono simili o vicine a quelle che noi veramente stavamo cercando quando abbiamo aperto la pagina. Io sono napoletana, se cerco un ristorante a Londra il venerdì sera, la prima cosa che vedo sono pizzerie. Ma è sì a farmi vedere un ristorante di sushi, potrei avere una crisi isterica, Google lo sa, e quindi previene la situazione. Il profiling è una cosa buona. Fino a quando non diventa ragione di discriminazione? Quando perpetra quelli che sono i pregiudizi che nella società già ci sono e che l'intelligenza artificiale facilita. Un altro esempio legato a Google, alcuni anni fa è diventato famoso, il caso in cui mostrava l'algoritmo di Google, avvisi pubblicitari per lavori manageriali, più spesso agli utenti uomini che agli utenti donne. È un caso di discriminazione. Questo è un rischio che dobbiamo evitare, perché in una società in cui l'intelligenza artificiale sarà sempre più distribuita, non possiamo permetterci che si facilitino, si distribuiscano e si moltiplichino questi tipi di discriminazione. Il secondo problema ha a che fare con la natura di questa tecnologia. Molto spesso l'AI è definita come una black box, una scatola nera. Cioè noi abbiamo gli input, disegniamo la tecnologia, ma non possiamo predire gli output. Potremmo, certo, avendo la stessa capacità di computazione, ma è difficile. E questo perché è importante? Beh, è importante perché noi ci fidiamo dell'AI, deleghiamo all'AI compiti importantissimi, la diagnosi del cancro, decidere chi assumeremo al prossimo concorso di lavoro, al prossimo colloquio di lavoro, che ristorante andare venerdì sera. In realtà però ci fidiamo di queste macchine che non comprendiamo e di cui non possiamo, o di cui non abbiamo predicibilità nel comportamento. E anche questo è un aspetto importante, c'è tanta ricerca che si focalizza su questo argomento. E l'altro aspetto ha a che fare con l'uso dell'AI e l'impatto sull'essere umano. Abbiamo sentito prima la quarta rivoluzione, la quarta rivoluzione industriale, è una frase che ricorre spesso, e la si usa per indicare il fatto che siamo diventati società digitali. In realtà la quarta rivoluzione industriale non è tanto il fatto che troviamo gli amici su Facebook o che compriamo il libro su Amazon, è più il fatto che il nostro frigo fa la spesa su Amazon, avendo capito quello che ci piace sulla base dei commenti che scriviamo su Facebook. È questa correlazione. Ecco, l'AI facilita questa correlazione. L'AI è un facilitatore invisibile che media tra le nostre interazioni con l'ambiente. E nel mediarle in realtà un po' ci dà degli indirizzi. A che punto questi indirizzi sono in contraddizione con la nostra autodeterminazione, con la nostra capacità di scegliere. Il mio lavoro, in parte, è anche essere sicuri che utilizziamo l'AI a supporto della nostra autodeterminazione, non contro o a discapito di essa stessa. Vi ho detto appunto, non solo sono rischi, sono anche opportunità. Il grande vantaggio dell'AI è che ci permette di delegare compiti che sono tediosi, noiosi, a volte pericolosi, alle macchine, e ci libera tempo. In Inghilterra tutti abbiamo un giardino, ad estate vorremmo fare delle feste, ma non si arriva mai sabato sera con la voglia di farle, perché hai speso tutta la giornata a tagliare il prato. Qualche tempo fa ho cambiato casa, ho speso un weekend a montare i mobili di Ikea, liti che non si potevano neanche, non ve le posso descrivere, non c'è una sedia che sia in equilibrio a casa mia. Quando ho scoperto che c'erano robot guidati dalle AI che potevano assemblare i mobili Ikea da sole, ho avuto un momento di commozione che è inenarrabile. E così guidare nelle zone trafficate, invece di spendere tempo guidare, poter leggere o interagire, e via dicendo. Allora, in una società in cui l'AI sarà distribuita in maniera orizzontale, sarà dovunque, nelle nostre tasche, sui cellulari, nel nostro tostapane, nel nostro termostato, in ospedale, a scuola, in ufficio. Il compito è essere sicuri che più AI significhi più human flourishing, cioè la capacità di sviluppare e realizzare i nostri progetti esistenziali, i nostri progetti umani, sia a livello individuale, sia a livello sociale. Nel 2015 l'ON ha definito quelli che si chiamano i Sustainable Development Goals. Sono 17 sfide che dobbiamo raggiungere con successo entro il 2030, che permetteranno all'umanità di vivere meglio, di fare meglio, di stare meglio. E vanno da la biologica nell'ambito biomedico, la cura della salute, la protezione dell'ambiente, la parità di genere, la diversità. Abbiamo scoperto, abbiamo capito, che l'intelligenza artificiale può aiutare, facilitare lo sviluppo di tutti questi obiettivi. Ci sono applicazioni delle AI che permettono a dei contadini in India di capire quando seminare per massimizzare il raccolto date le condizioni climatiche. Abbiamo applicazioni delle AI che facilitano la raccolta delle plastiche dagli oceani, che è una delle tragedie ambientaliste forse più sentite al giorno d'oggi. Sappiamo che nel 2050 ci saranno 131 milioni di persone malate di Alzheimer, una malattia che non possiamo curare, che è difficile da diagnosticare. E abbiamo capito che l'AI ci permette di anticipare la diagnosi di sei anni, limitando così l'impatto della malattia perché possiamo curarla prima. E allora com'è che tutti questi rischi, tutte queste opportunità, come ci impattano, come ci affliggono in quanto esseri umani? La risposta che mi do spesso è questa. È una frase di Leonardo da Vinci che dice sono stato impressionato dall'urgenza del fare. Sapere non è abbastanza, dobbiamo agire. Avere ottime intenzioni non basta, dobbiamo fare. E uno davanti alle potenzialità delle AI è davvero preso dalla voglia di dire beh, allora sfruttiamole, non ce le perdiamo, cambiamo il mondo. A leggerla, anche un po' superficialmente, sembra quasi di leggere uno di quei motti della Silicon Valley. Qualche anno fa a San Francisco avrebbero detto fail often, fail fast. non ti preoccupare se sbagli, ripeti lo sbaglio, l'importante è che ti riprendi e riprovi e continui a provare. Prima o poi fai le cose fatte bene. Nel processo abbiamo avuto Cambridge Analytica, abbiamo avuto tutti gli scandali di cui abbiamo sentito, quindi non è proprio una buona idea. In realtà Leonardo non ci sta dicendo fail often, fail fast. Leonardo è un uomo del rinascimento, è un uomo poetico. Il suo fare segue al pensare e a utilizzare lo strumento di oggi per cambiare domani. Il fare significa progettare. In realtà ce lo dice, ci dice la conoscenza non è abbastanza, è necessaria, ma non è sufficiente. Le buone intenzioni servono, ma non bastano. Bisogna fare di più, ma ci vogliono. Allora quali sono le buone intenzioni? Quali sono le conoscenze che ci servono al giorno d'oggi per poter fare come avrebbe voluto Leonardo? Cioè progettare il futuro. E qui arriva un altro po' di filosofia, ma è veramente poca. L'AI è una tecnologia, forse una delle più avanzate, la più avanzata del digitale. E il digitale è una tecnologia rivoluzionaria, non solo perché ci permette di fare cose nuove, ma perché nel farlo cambia la realtà intorno a noi. È una tecnologia trasformativa. Col digitale facciamo nuove cose, appunto potremo leggere un libro mentre guidiamo, ma cambia anche il modo in cui capiamo le cose. Pensate al concetto di guerra, che è una delle aree in cui lavoro molto io. La guerra nella storia dell'umanità ha significato violenza, distruzione, morte. Oggigiorno parliamo di cyber conflicts, di conflitti cibernetici, che sono sì un'espressione di forza, sono sì un'espressione di aggressività, ma sono completamente staccati dal concetto di violenza. Possiamo combattere una guerra cibernetica senza uccidere nessuno, senza distruggere niente, eppure raggiungere lo stesso obiettivo. È cambiato un concetto. Quello di guerra, che era un concetto che equivaleva a forza e violenza, è diventato un concetto in cui invece la violenza è staccata da quello di forza. Questa trasformazione dell'ambiente, delle nostre interazioni, della nostra comprensione che il digitale e le AI fanno, sono la leva, sono l'elemento sul quale dobbiamo spingere per capire in realtà, per raggiungere quel fare che Leonardo ci suggerisce. Qual è quindi la natura o il valore dell'essere umano nella società del digitale, nella società dove le macchine si comportano come se fossero intelligenti? E noi possiamo delegare alle AI il potere computazionale. L'intelligenza artificiale può raccogliere informazioni, elaborare informazioni, fare correlazioni in una maniera più veloce, più precisa di qualsiasi altra intelligenza che noi conosciamo. Immaginate la diagnosi del cancro. L'intelligenza artificiale può riconoscere da una tacca, un cancro, senza mai stancarsi, senza mai dimenticarsi nessuna delle tacche che ha visto prima, senza avere un momento di stress, un momento di paura. È super efficiente. Ma questa è la delega. Le AI è uno strumento, uno strumento che dobbiamo utilizzare per cambiare la realtà in cui viviamo. Dobbiamo utilizzare le AI per progettare le società, la nostra società, ma anche quelle che si chiamano le società post-AI, cioè quelle società nelle quali le AI non sarà più una tecnologia trasformativa, rivoluzionaria, ma sarà data, un po' come la corrente elettrica al giorno nostro. Dobbiamo utilizzare le AI per essere sicuri di sviluppare società che siano tolleranti, che siano giuste, che siano democratiche, che siano pluraliste. L'ordine delle parole non è casuale. Toleranza è un valore fondamentale in questo contesto. Allora, se guardiamo al design intelligente, perché è importante? Perché il design intelligente, intelligente alla maniera di Leonardo, intelligente alla maniera della progettazione del futuro, è quello che ci fa umani, è la cosa che le AI non fa e che noi facciamo. E abbiamo la responsabilità di farlo, perché si tratta di dare la forma alla realtà che seguirà quella dei nostri figli. Io vi lascio con una citazione di Winston Churchill, che era uno anche abbastanza cinico, però ci vedeva molto bene per quanto riguardava il futuro. Una volta ha detto we shape our buildings and then afterwards buildings shape us. Diamo noi una forma ai nostri palazzi, però poi i palazzi danno una forma a noi. E l'architettura ci dice questo. Questa frase è vera per l'architettura e ancora più vera per il digitale. È ancora più vera per le AI. Noi disegniamo le AI, noi progettiamo le AI e dobbiamo sapere che questa tecnologia poi ha un impatto molto diretto e molto forte su noi come persone, su noi come società, su noi come ambiente. Allora dobbiamo essere sicuri di progettare le AI in modo tale che ci permetta di acquisire la forma che vogliamo, che è una forma in cui l'empatia rimane un valore fondamentale, un aspetto da curare, da proteggere e da distribuire. E con questo vi ringrazio. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.